Forse non si pensa molto alla gravità, ma essa influisce su tutto ciò che facciamo. È il motivo per cui le cose cadono a terra invece di volare. Ci tiene legati alla terra in modo da non fluttuare nello spazio quando saltiamo. Ma per i fisici la gravità è qualcosa di più. È un affascinante rompicapo che deve essere risolto per capire come funziona l'universo. Per questo sono alla ricerca dei suoi segreti. Allora, cosa c'è di così misterioso? Vediamo. Abbiamo imparato molto sulla gravità dal leggendario Isaac Newton. È stato il primo a inventare la legge di gravitazione. Ci ha insegnato che due oggetti qualsiasi nell'universo non possono fare a meno di essere attratti l'uno dall'altro. È come se avessero una cotta. La forza di questa attrazione dipende da due fattori. La grandezza degli oggetti, cioè la loro massa, e la loro vicinanza. Ma la gravità non è solo la danza di due oggetti. È una complessa coreografia spaziale. Prendiamo ad esempio il nostro sistema solare. Il Sole svolge il ruolo principale usando la sua forza di attrazione gravitazionale per mantenere tutti i pianeti nelle loro orbite. Ma anche ogni pianeta ha la sua forza gravitazionale verso il Sole e i pianeti vicini. Qualche centinaio di anni dopo Newton, Albert Einstein fece un'ulteriore grandiosa scoperta con la sua teoria della relatività. Secondo Einstein, la gravità non è una forza regolare. In realtà curva e deforma il tessuto dello spazio-tempo. Pensa a un campione di pesi massimi seduto su un foglio di gomma. Il foglio si piega e si incurva sotto il suo peso. E gli oggetti più piccoli nelle vicinanze non possono fare a meno di rotolare verso di lui. Ora, anche se non possiamo vedere le curve dello spazio con i nostri occhi, possiamo vedere cosa succede agli oggetti che rimangono intrappolati nella sua morsa. Essere trascinati dalla gravità è come essere travolti da un vortice di forze. L'oggetto catturato inizia a scendere a spirale, proprio come una moneta nelle macchinette per turisti. Oppure si muove graziosamente in cerchio, come biciclette in un velodromo. La gravità è la forza primordiale che guida tutto il nostro mondo. Senza non ci sarebbero né stelle né galassie, niente. Ma da dove viene? Questa è la domanda da un milione di dollari. E non abbiamo ancora una risposta. Ma abbiamo alcune ipotesi. Innanzitutto sappiamo che la gravità non è solo una caratteristica dello spazio. È una forza che unisce le cose. Sorprendentemente è la forza più debole tra tutte. Ma osserviamola sotto una luce diversa, che potrebbe sorprenderti. Invece di essere una forza che spinge o tira direttamente gli oggetti a distanza, è più simile a... una danza. La gravità, sorprendentemente, non si esibisce da sola in questa danza. Condivide riflettori con altre forze, come l'elettromagnetismo, ad esempio. Immaginiamo due elettroni. Sono i nostri ballerini. Non si spingono né tirano direttamente l'un l'altro, come ci si potrebbe aspettare. Piuttosto, un elettrone crea un campo speciale intorno a sé, come un campo di forza invisibile, il palcoscenico per lo spettacolo. L'altro elettrone percepisce questo campo e inizia a roteare e a interagire con esso. È come se seguissero una coreografia. Quando osserviamo questa danza, sembra che il secondo elettrone venga spinto o tirato dal primo. Ma in realtà si tratta di movimenti intricati e di interazione tra i ballerini e il palco su cui danzano. I ballerini non si toccano mai direttamente, ma le loro interazioni attraverso questi campi fanno sembrare che siano collegati. È un'esibizione magica di campi e movimenti che si uniscono per creare l'illusione di forze in gioco. È questa la gravità. Quindi, anche se non è una forza nel vero senso della parola, si comporta come tale. La chiamiamo forza emergente perché emerge dal modo in cui lo spazio e gli oggetti interagiscono. Ecco perché, se vogliamo essere precisi, alcuni scienziati preferiscono evitare il termine forza gravitazionale e optare per interazione. È solo un modo in cui le particelle si mescolano e si scambiano energie e informazioni. Interazioni elettromagnetiche gravitazionali fanno tutte parte di questa grande festa. Almeno, questa è una teoria. Alcuni scienziati pensano anche che la gravità possa essere costituita da minuscole particelle chiamate gravitoni. Lavorano dietro le quinte, facendo sì che gli oggetti si attraggano a vicenda. Tuttavia, non siamo ancora riusciti a vederli direttamente. Quindi, secondo questa teoria, la gravità è sia una forza che una particella. Come puoi notare, abbiamo qualche difficoltà a spiegare come funziona la gravità su larga scala. Ma almeno abbiamo una buona comprensione di come si comporta in certe situazioni, come con l'orbita dei pianeti intorno al Sole o la caduta degli oggetti a Terra. Ma cosa succede quando ci spostiamo su scala atomica? E se ci avventurassimo nelle profondità dei buchi neri e del Big Bang? È qui che la corsa sfrenata della gravità si fa incredibile. Entriamo nel regno della meccanica quantistica. C'è qualcosa di particolare che accade in questo piccolo mondo. La gravità, la forza che unisce le cose, sembra passare in secondo piano. Su scala microscopica, altre forze, come l'elettromagnetismo, prendono il sopravvento, mettendo in ombra la gravità. Perché la gravità svanisce all'improvviso? Finora non abbiamo idea. Passando a scale più grandi, poi, dove si trovano oggetti immensi come i buchi neri, la gravità assume un livello di complessità completamente nuovo. Per esempio, in un buco nero, le leggi della fisica e la gravità, così come le conosciamo, sostanzialmente crollano. Succede anche quando cerchiamo di capire come si è comportata la gravità subito dopo il Big Bang. Da dove è venuta? Non ne abbiamo idea. Ma non temere, gli scienziati stanno lavorando duramente per sapere di più su questa enigmatica forza ebergente. Stanno facendo ogni sorta di esperimenti e utilizzando tecnologie sofisticate per decifrare il suo comportamento. Anche se abbiamo ancora molto da capire, stiamo facendo progressi ogni giorno. Per esempio, hai mai sentito parlare di lente gravitazionale? È come un trucco di magia. Immagina un raggio di luce come un impavido esploratore che percorre un percorso rettilineo attraverso l'universo. Quando incontra l'attrazione gravitazionale di un oggetto massiccio, il viaggio della luce si trasforma in un selvaggio giro sulle montagne russe. La gravità dell'oggetto massiccio piega il tessuto dello spazio-tempo, creando un effetto casa degli specchi. Il nostro coraggioso raggio di luce si ritrova a curvarsi e ad attorcigliarsi intorno all'oggetto massiccio, seguendo un percorso nuovo e inaspettato. Quando poi la luce cambia traiettoria, ci rivela meraviglie lontane e nascoste che altrimenti rimarrebbero invisibili. La luce può ingrandire, distorcere o addirittura creare immagini multiple di oggetti lontani. Così tutte le cose che hanno giocato a nascondino con noi diventano visibili, come i buchi neri. C'è anche l'idea strabiliante delle onde gravitazionali. Einstein ne aveva immaginato l'esistenza decine di anni fa, ma solo di recente siamo riusciti a confermarle. Un grande passo avanti nel mondo della scienza. Queste onde trasportano l'eco di eventi cosmici cataclismatici, come la collisione di buchi neri massicci o la nascita di stelle neonate. Proprio come quando si lascia cadere un sasso in uno stagno, questi eventi pazzeschi provocano una sorta di increspatura. Ma, invece dell'acqua, è lo spazio-tempo a incresparsi. Gli scienziati hanno recentemente sviluppato un modo per ascoltare quest'eco. Hanno creato strumenti in grado di rilevare queste onde gravitazionali. Questi strumenti, noti come interferometri, sono come orecchie finemente sintonizzate per cogliere le sottili vibrazioni dell'universo. Una cosa è certa, la gravità è la superstar che dà forma all'universo. Collega tutto ciò che ci circonda e lo governa. La ricerca per svelare i suoi ultimi segreti continua ed è un'avventura emozionante per scienziati e menti curiose. Grazie. Grazie.